Ciao e benvenuto al nostro corso. Da anni i turisti si recano nei centri urbani, il che ha dato prestigio, ma ha anche portato a molte conseguenze indesiderate, come il sovraffollamento e la gentrificazione. Oggi possiamo vedere una chiara tendenza ad un turismo che si avvicina alle periferie della città, tuttavia mancano ancora modi per trovare, dare voce attrattiva alla periferia. Dove possiamo trarre ispirazione per viaggi che siano fuori dai sentieri battuti o lontano dal mainstream? Questo corso, prodotto dal progetto europeo Erasmus Plus di OderCity, offre un'opportunità unica per creare e sperimentare questo tipo di viaggio alternativo. E' pensato per l'uso da parte di professionisti delle industrie creative e culturali che a loro volta possono progettare e condurre tour urbani alternativi che incorporino strumenti digitali. Questo non è un corso di formazione per diventare una guida turistica certificata, ma piuttosto un'opportunità per i professionisti delle industrie creative e culturali e le comunità locali di imparare come utilizzare nuovi strumenti digitali in modo facile e divertente. Questo corso è diviso in cinque moduli che coprono tutti gli argomenti relativi alla creazione di tour urbani alternativi, dalla ricerca allo storytelling e alla gamification, utilizzando strumenti digitali e migliorando le proprie capacità imprenditoriali. All'interno di ogni modulo troverai diverse informazioni e spiegazioni, casi di studio con esempi di buone pratiche e strumenti per ispirare il tuo processo creativo. Dopo aver completato il corso, ti suggeriamo di mettere in pratica le tue conoscenze creando il tuo tour digitale e poi condividendolo sui social media con l'hashtag TheOtherCity in modo che l'esperienza possa essere condivisa da una rete più ampia.